La partitissima contro la Reggiana, un posticipo importante contro una squadra che sta dominando insieme con il Modena il campionato. Sono le partite di Eugenio Dursi? Spero di sì, ma questa è una partita come le tante. Noi dobbiamo affrontarla come tutte le partite, proviamo a portarci tre punti. Ovviamente loro sono un'ottima squadra perché stanno facendo un campionato importante, ma noi andiamo lì per vincere. Aiutaci a conoscere un po' mentalmente come può reagire una squadra perché Modena e Reggiana, testa a testa da tantissimi mesi, a Carrara è arrivato un passo falso, due espulsioni, potrebbero un po' mentalmente aver subito il colpo? Non lo so perché io penso che loro ci affrontano per vincere. Noi faremo altrettanto, ma ce la possiamo giocare a viso aperto. Come è andata all'andata dobbiamo evitare alcuni errori, ma se giochiamo come sappiamo possiamo portare a casa i tre punti. Soprattutto una squadra come la Reggiana vi permetterà anche di avere alcuni spazi e in quegli spazi guardiamo Viterbo, Dursi, si è dimostrato devastante. Sì, è una squadra che accetta il confronto, non si chiude tutta dietro, gioca a viso aperto. Quando ci stanno i spazi mi diverto di più. Come sta oggi Eugenio Dursi? Sto bene, sto bene, come tutti i miei compagni stanno bene. Faremo sicuramente una grande partita. Mi provi ad anticipare questa partita, una chiave come l'hai immaginata? Una partita di grande spessore, facciamo un'ottima partita a tutte e due squadre a viso aperto.